Ciao amici di PokerYes.it, Roberto Lolli, Torno.it ai tavoli, esperienza a Venezia, siamo all'albergo Amadeus, abbiamo finito adesso il live 5.50 bounty e quindicesimo posto. Alla fine non mi hanno retto due jack, sono stati fatidici contro 10-10, ha settato un giocatore e quindi da lì è stata una strada in salita, ormai erano poche le fish e la partita era stata condizionata. Sono stato chip leader probabilmente per il day 1 gran parte del tempo, quasi fino alla chiusura, 100.000 fish iniziali al day 2 con un average sui 50.000, quindi stavo veramente messo bene. purtroppo è andata così. Ci rivediamo poi probabilmente a campione, se riesco a passare ma non mollo, dalla classifica del prossimo mese e un bacio a tutti gli amici. Ciao!